La propria cosa ti aspetti, nel bene e nel male, questa è la condizione che vedrai manifestarsi nella tua vita. Qualsiasi cosa pensi, avrai ragione, poiché vedrai manifestarti in riferenza. La cosa bella è che finisci il conflitto finalmente. Quando io comprendo che le credenze si avverano, quindi se io credo che questo libro è blu, per me è blu, se lui ha gli occhiali con le lenti rossi, cioè per me è rosso, lui ha ragione perché lo vedrà rosso, entrambi avevano ragione, se io credo che è blu, lui dice che è rosso, quindi se io credo che lui è litigare, non ha senso, perché se è per lui avevano ragione. Quindi, qualsiasi cosa che noi crediamo, le ospedenze che hanno la realtà, la nostra realtà, avevano ragione. Dicono che il mondo fa schifo, avevano ragione, vive un mondo di schifo. Sì che il mondo è bellissimo, è paradisiaco, avevano ragione, il mondo per me sarà un paradiso. Questa è la relatività, però esiste anche l'assoluto. L'assoluto è verità perché dice Dio è amore, di tutto è amore, questa è la realtà a livello assoluto. Qual è il problema delle credenze? Che noi non siamo mai coscienti delle idee e delle credenze che riempiono nella nostra mente, cioè non sappiamo cosa crediamo. E la maggior parte delle idee che noi abbiamo non sono la nostra, ma sono del contesto in cui viviamo. Tu esiste, sei cattolico, perché sei andato in Italia? No, io non frequento la cosa. Ti sembra? O lei è cristiana, perché è nata in Italia, è sposata in India, era indiana, è sposata in Arabia, era giurmana. Quindi molti concetti che noi abbiamo non sono, in realtà, nostri, ma ereditiani. Quindi non sono scelte, ma ne ha consapevole. Perché le nostre convinzioni, in realtà, morte non sono la nostra. Un altro passo del Vangelo bellissimo. In verità vi dico, se avete fede pari a un granulino di Senap, potete dire a questo morte, spostati da qua a là, ed esso si sposterà. E niente vi sarà impossibile. Questo passo è molto enigmatico. Cioè, che significa? Che io se ho fede, dico a un granulino di Senap, mi fa un monte, spostati e mi si sposta. Cosa in realtà significa questo passo? E questa è la spiegazione profonda. Se un uomo avesse la capacità di spostare di un millimetro la direzione della sua fede, prima di avere la fede è uguale per tutti, ognuno ha una direzione di sapere. Se ho la sposta di un millimetro, se appena potresti indirizzare la forza delle tue convinzioni verso la vita, verso l'amore, anziché verso la paura, ossia la morte, potrebbe spostare e montarmi nel mondo delle venti. Cioè la realtà cambia totalmente. Se io riesco effettivamente a avere fede nella vita un po' di più rispetto alla fede che ho nella morte, faccio un salto a palco. Ma anche per la fede è uguale per tutti. E con ognuno però spende invece questa fede in cose differenti. Tutto ciò che ci succede sono le nostre creazioni, creazioni delle nostre credenze e convinzioni abbiamo detto. Nasce con il libero arbitrio, significa esser stati creati con il diritto di scegliere. Scegliere cosa? Scegliere se essere nell'amore o nella paura. Ci sono due stati fondamentali ogni cosa, due vie, non ci sono altre vie. Ogni scelto che noi facciamo è detta da tutte e due voci, o dall'amore o dalla paura. Punto. Questa vera quanto semplice è in matematica. Quando tu agisci, agisci per l'amore o per paura. Non per nessun altro motivo. Il 90% dell'umanità agisce per paura. 11% per l'amore. Chi agisce nella l'amore dimora in Dio. E Dio dimora in lui. Letta di Giovanni. Chi agisce nella paura è in raffreddio, si dice di Satana. Perché Satana è il re della paura. Vi controlla tramite la paura. L'umanità soffre perché ha più fede nel Dio capriccioso, vindicativo, vindicativo a volontà, che punisce. Quante volte poi è il Dio che punisce, che ti castiga, ti sfoglie Geo, a sembrare la fede nel mondo, ti castiga. Quello è Satana. Quello è il Dio di Satana è l'illusione, è la paura. Piuttosto che fede, un Dio d'amore, che ama senza condizione. Chi è Dio? Dio è amore incondizionale. Dio ti ama così come sei. E non vuole nulla da te. Dio non vuole nulla. L'esistenza non vuole nulla. Perché? Ti ha dato il suo potere. Ti ha tirato l'armicchio. Quindi ognuno, piuttosto che fede, un Dio d'amore, che ama e protegge, ognuno dice in conformità fra immagini di Dio. L'umanità attualmente ha più fede in Satana che in Dio. Ha più fede nella morte che nell'amore. Cos'è l'amore? L'amore, il termine stesso, spiega cosa è l'amore. Amore è Dio dal greco amos, dalla tima amos. A è altro che la tima, si dica senza. Mors, mortis e mortis. Senza morte, vita è Dio. L'amore è Dio. Chi è l'amore? È l'immortalità. Qualche di voi crede che siamo immortali? La maggior parte di crede che siamo immortali, effetti, noi moriamo. Noi moriamo non perché dobbiamo morire, ma perché chiediamo di morire. Quindi moriamo. La fede nella morte è più forte che nella fede dell'amore. in futuro, quando un'unità evolverà, partiamo in tra l'acqua di vita, ma poi comprenderà di essere immortale e quindi non morirà più. Ma dov'è l'indipo? Che a parte la credenza è subconscia che l'iceberg non la punta. E io so che all'interno è consapevole comprendere che noi siamo immortali. Ma se il mio iceberg, fatto da migliaia di anni di convinzioni e credenze, crede che sono mortale, morirò. Perché questo è un lavoro di andare a sciogliere l'iceberg all'interno. Però il crederlo, già conosce, già può rompere questo iceberg. Perché se prima la morte era a potere 100%, non avrà 98%. Quello per cento è l'inizio della fine della morte. E ci siamo in tanti ecco che la vostra è ancora più forte. La condizione è più forte. anche con un obiettivo di Dio amore. Però, questa è una vita assoluta, ma esistente una vita relativa. Perché? Non malgrado. Visto che noi crediamo con la nostra fede, ognuno creda un Dio secondo la propria fede. E quindi, Dio è come il Pesceo. Questo è un Dio. Ah, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. E esiste un Dio relativo. E esiste un Dio assoluto. C'è un profonderdale della Bibbia su cui di Matteo 6 che dice se voi infatti perdonerete agli uomini la loro colpa, il Padre Vosso Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre Vosso perdonerà le vostre colpe. Più voi diventate belle, più avete un Dio bello e misericordioso. Più voi siete cognitivi e fudere, più avete un Dio cognitivo e fudere. affetto. Quindi io se sono nell'amore avevo un mio amore quindi mi sentirei protetto da Dio. Se io sono molto nel giudizio, nella mentela, nella paura, nella credibilità, avevo un Dio ugualtà a come sarò io. E quindi tale figlio, tale padre. Tale figlio, io tale padre. Come fa? Tale figlio, tale padre. Così come sarò io, sarà Dio. se voi perdonerete, Dio mi perdonerà. Se voi non perdonerete, Dio non mi perdonerà. Perché io auguro nel relativo, nell'assoluto, Dio che è amore, far questo oppure, farvi crescere, far compendere effettivamente che, tramite ciò che fate che vi tornerà indietro, potete compendere meglio chi la mente siete. per cui, migliorare nel percorso evolutivo. Dio è amore, volontà e misericordia, saggezza e eternità. Non ha un altro di magnatica, peggioso, punitivo, indicativo, un altro di volontà cattiva e puoi ricastigliarci. Tutto è l'altro. Dio è un padre amorevole e desidera dare a mio suo figlio il merito. Se ci vedete, tutto il meglio avrete nella vita, per il mio della legge. Se io credo questo Dio, cominciò a conoscerlo, lo realizzerò. E quella che è nell'amore, piuttosto che nella paura. Quindi Dio, la ricerca è più elevata di Dio, Dio è amore e Dio ha dato delle leggi, le sette leggi mutabili, che agiranno nella vita di ogni essere umano e avranno l'universo come funziona. Se riconosco possibilizzarle a mio vantaggio, se non riconosco, agiranno naturalmente. In questo senso la conoscenza è potere. Perché se lo so che la ciaga è beccata, se lascio un libro e vado giù per terra, o tocco la presa e c'è la corrente, la tocco in grucio. Se so che c'è corrente, non tocco in grucio. La conoscenza è potere di non farmi del male. Dio è amore e chi dimora dell'amore dimora di Dio e Dio è lui. Nell'amore non c'è paura. Quindi tutti lo che sono gelosi, sono geloso perché ti amo troppo. È un contotenso. Se c'è amore, non c'è gelosia. Se io amo, lascio libero. Quindi tutti lo che c'è paura, non c'è amore. Quindi con questo concetto qua, nessuno mi potrà fregare. E anche voi si arrettonissi con voi stessi. Quindi accorgete di quando siete nella verità o quando siete nella falsità o nella paura, nella mezz'ora. La paura ti ferma l'inizione. Dio che c'è la punizione c'è anche la paura. Se io abbatto la punizione abbatto anche la paura. Dio ha creato delle leggi mutabili. Noi per liberarvi dentro di seguire o meno queste leggi. E risvegli per avere anche per vedere. La realtà è perfetta. Se io percepisco una realtà non perfetta significa non che la realtà non sia perfetta ma io non ho per vedere la percezione della realtà. Ma questo vi assurda la messa e c'è. Ah perché? Questo è o risuscita di morti di coscienza. I morti tutti noi siamo morti viventi non mi è andati. Gesù risuscitava. Gesù la via ritava la vita. Dava la vita. Fammi te quella conoscenza per le parole. perché la parla d'ora alzima all'anima. Grazie a tutti